Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento fisso con l'estrazione di Eurojackpot. Prima di collegarci con la sala delle urne, parliamo del termovalorizzatore più ecologico del mondo. Si trova in Danimarca ed è un'immensa struttura architettonica sul cui tetto si sviluppa un impianto sportivo. Poco fuori Copenaghen, Copenhill ha aperto al pubblico nel 2019. L'inceneritore brucia 70 tonnellate di rifiuti all'ora senza alcuna emissione di CO2, svolgendo anche la funzione di impianto sportivo. Copenhill, infatti, è stato concepito come una montagna artificiale con un pendio lungo 200 metri, su cui si sviluppano piste da sci, percorsi escursionistici e pareti d'arrampicata. Favoloso, non è vero? Proprio come il jackpot di questa sera. Vale 101 milioni di euro. Immergiamoci ora nell'atmosfera calda dell'estrazione, nella sala delle urne. Le operazioni sono iniziate. La prima urna elettronica è stata caricata. Le 50 sfere numerate sono pronte per il mescolamento automatico e l'estrazione. Il primo numero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot viene estratto ora. Il primo numero è 21. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 48. Siamo ora al terzo estratto, ed è il numero... 40. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo, è il numero... 2. Siamo arrivati alla quinta sfera estratta, che potrebbe assegnare vincite milionarie, se associata ai due euronumeri. Il quinto numero estratto è... 34. È giunto il momento dell'estrazione dei due euronumeri, che potrebbero assegnare il jackpot in palio questa sera. Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. È il numero... 6. Il secondo euronumero completa la combinazione di Eurojackpot di questa sera. Il secondo euronumero è... 2. Controlliamo ora la combinazione vincente. 2, 21, 34, 40, 48. I due euronumeri sono... 2 e... 6. Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato realizzato il 5 più 2. Ma sono state numerosissime le vincite sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie. Se non è toccato a voi, non perdete la speranza. La prossima estrazione sarà martedì. Continuate a seguire i canali Eurojackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 113 milioni di euro. Una cifra stellare che potrebbe salire fino al record di 120 milioni di euro. Grazie per essere stati con noi. Eurojackpot vi dà appuntamento a martedì prossimo con una nuova estrazione. Vi aspettiamo! Grazie per aver guardato il video.